Sfruttamento del lavoro, caporalato e condizioni inumane nei campi della provincia di Foggia. Nelle scorse ore i carabinieri della Compagnia di San Severo e del Comando per la tutela del lavoro del capologo Dauno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale a carico di 5 persone. Di questi, due soggetti sono stati condotti in carcere, uno è agli arresti domiciliari e due sono sottoposti all'obbligo di dimora. Si è procedute inoltre al sequestro preventivo e di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro e alla sottoposizione a controllo giudiziario di quattro aziende. L'operazione, denominata Job & Pay, iniziata a seguito di un incidente stradale avvenuto in una mattinata di ottobre 2020 e nell'ambito del quale veniva coinvolto un furgone con a bordo 5 braccianti agricoli di etnia africana, ha coinvolto numerosi soggetti italiani e stranieri, così arrivando alla contestazione di questa mattina dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa, reati accertati nel periodo da ottobre 2020 a novembre 2021 nella provincia di Foggia, in particolare nei territori di San Paolo Civitate, Lesina, Cheuti, Serra Capriola, San Severo e Poggio Imperiale. Durante le indagini si è potuto appurare che i datori di lavoro si avvalevano per il reclutamento della mano d'opera di un caporale di nazionalità senegalese, il quale approfittando dello stato di bisogno di tantissimi connazionali e di altre persone di origine africana era addetto, oltre che all'assunzione, anche al trasporto e alla sorveglianza dei braccianti, ai quali venivano imposte condizioni lavorative massacranti e poco dignitose. Nessuno dei braccianti, inoltre, aveva ricevuto adeguata formazione né i dispositivi di protezione previsti.